Buongiorno a tutti, domani c'è la grande partita Varese-Latina, noi vogliamo rispondere anche come Varesot, vogliamo rispondere ai numerosi tifosi che ci hanno chiamato in questi giorni, anche in base al comunicato che i tifosi stessi hanno fatto sulla Prealpina e sulla Vinci aieri dicendo che assolvono sì i soci del Varese-Napoletani, ma non Montemurro. Il Varesot non vuole prendere nessuna posizione in merito a questa diatriba, ma vuole fare alcune considerazioni di tipo sportivo. Dopo alcuni giorni di un teatrino inusuale per Varese che francamente avevamo voluto farne a meno, ora le chiacchiere stanno a zero e da domani alle ore 15 si gioca con il Latina, con Pagine Aguerreta che sta facendo sinora un bel campionato. La grande premessa è che il mister Gautieri ha con sé i famosi giocatori che ha voluto per il 4-3-3 e speriamo che domani facendo giocare questi finalmente parte questo modulo e soprattutto che sia stato capace di tenere lontano i giocatori dai problemi societari, ricompattando lo spogliatoio e che riesca in questi giorni, soprattutto prima della partita, caricare a mille Zecchin e compagni. Perché la salvezza è prioritaria e dobbiamo uscire al più presto dei play-out. La pervalenza del Varese in Serie B è fondamentale e viene prima di tutto. Però i tifosi varesini non sono così sproveduti e aspettano ancora delle risposte e francamente la dichiarazione di Montemuro in conferenza stampa ha lasciato qualche lacuna. La prima domanda che ci siamo posti tutti è ma i famosi debiti come fanno un amministratore delegato anche se non come lui stesso diceva che non faceva a non sapere quando tutta la città lo sapeva. L'amministratore delegato ha anche affermato che lui non si occupava dell'area finanziaria ma se si è preoccupato dell'area tecnica e allora a Varese paghiamo due direttori sportivi. Terzo problema. Purtroppo Montemuro, e questo ce l'hanno anche detto i numerosi telefonati che abbiamo ricevuto, è antipatico non per colpa sua ma perché si porta ahimè purtroppo il peccato originale di essere amico di Rosati e questa gestione di Rosati è lasciato un attimino a desiderare. A tal proposito io vorrei invitare la regia a mandare in onda una breve dichiarazione del 26 giugno fatta all'oratorio di Gavirate dell'anno scorso, del 2013 alla presentazione del libro che c'era Romaniello, Sannino e Rosati, quanto ha detto Rosati in quella data. Prego. Eccolo qua, vieni un attimo Presidente, vieni qua. Anche perché la bella scalata... No, no, ah già da oggi, però in questo momento parliamo di Sannino quindi sei il Presidente che ce l'ha portato... Cioè voglio dire in questo preciso istante arriva Rosati, c'è Sannino, ci troviamo all'oratorio, i valori veri del calcio sono qui. Voglio dire Rosati l'ho sentito tre quarti di ora fa, a parte che è una promessa di sette giorni fa le mantenute e ti ringrazio. E questo è il tuo saluto anche a Varese, ci tenevi particolarmente. Certo, vabbè, ma mica sparisco io, voglio dire. Mi avrete qua peggio di Sannino, lui viene poco spesso e io verrò più spesso. Ma lui sa, era in Terronia adesso... Avete sentito? Qualche domanda ce la stiamo ponendo. Montemuro rivendica il ruolo di rifondatore del Varese del 2011, quando è stato abbandonato da tutti, così dice lui. Ricordo... che ci sono da un po' di anni a questa parte, ancora nello staff paresino, uomini che sono partiti da Parabiago e che oggi, come oggi, sono ancora vicini alla società e che, se interpellati e chiamati a fare determinate cose, aiutano la società in maniera spropositata. Quinta domanda che vorrei porre è questa. La gestione Sottili, va bene che Sottili non ha portato risultati e eravamo quasi nella zona playoff. Sottili, a mio avviso, è stato lasciato solo dalla società e è anche stato esonerato in maniera poco... e mi fermo qua. Ricordiamoci che Sottili potrebbe diventare utile in futuro. Va bene, presidente, caro presidente, sei un uomo di lago come lo sono io e gli uomini di lago le promesse generalmente le mantengono e noi del Varesotto, ma tutti i tifosi, crediamo in te. Tu sei il comandante di questa nave, ripeto, e crediamo in te anche, comandante, ci mancherebbe altro. Noi, se tu garantisci che lo staff funziona, ci crediamo in te anche nel tuo staff che funziona, però hai promesso la salvezza. Ma ricordati bene che se vuoi fare viaggiare questa nave verso la salvezza e per fare questo devi lasciare a terra qualche passeggero anche di peso, caro presidente, devi però avere il coraggio di decidere. E con questo la parola al campo domani con Varese Latina. Grazie e buongiorno a tutti.